Buon pomeriggio, sempre l'aggettivo buon lo mettiamo per tirarci sul morale, però buon martedì pomeriggio come promesso e come tutti i giorni facciamo un aggiornamento su quello che accade in Italia, in Europa e nel mondo, ovviamente con al centro il diritto alla vita e il diritto alla salute, il primo pensiero va a Mario Giovita, 65 anni, medico di famiglia, morto per il coronavirus a Bergamo, è il primo caso purtroppo di medico di famiglia contagiato, ricoverato e purtroppo non ce l'ha fatta, pensate che solo in provincia di Bergamo sono più di 100 i medici di famiglia che versano in condizioni problematiche col contagio in corso, quindi un abbraccio noi lo facciamo sempre in questi giorni ai medici, ospedalieri, agli infermieri, agli operatori sociosanitari, ai volontari del 118, di tutte le ambulanze, le croce rossa, un pensiero particolare anche ai medici di famiglia che sono in frontiera come i pediatri e come tutti gli altri specialisti, quindi un bacio a Mario, un abbraccio ai suoi colleghi e alla sua famiglia. Entrando nel merito ovviamente è da domenica che cerchiamo di darvi certezze sulle questioni economiche che ovviamente interessano tanti italiani, oltre che l'emergenza sanitaria c'è anche un'emergenza economica in casa di tantissime famiglie, ebbene purtroppo certezze ancora non ve ne possiamo dare perché il decreto ancora non c'è. Se ne parla da sabato, domenica, lunedì, siamo arrivati ormai a martedì nel tardo pomeriggio, ancora non c'è nulla di scritto e quindi capite bene che presentare emendamenti, fare proposte, dare consigli, suggerire miglioramenti quando non c'è un testo scritto è complicato. Comunque ci stiamo lavorando, vi do una notizia su cui stiamo lavorando da giorni, entrosera sarà attivo un servizio sia telefonico che via mail offerto gratuitamente dalla Lega tramite i suoi tecnici, i suoi funzionari, i suoi economisti, i suoi parlamentari per dare una risposta a tutte le domande relative alle questioni economiche di lavoro per imprese, per negozi, per aziende, per famiglie, per studi professionali, per partite IVA, quindi vi metteremo a disposizione dei telefoni cellulari con nomi e cognomi di donne e uomini a rispondere e un indirizzo mail per tutte le domande a cui speriamo, ovviamente senza promettere miracoli, di dare risposte precise. Ovviamente serve il testo del governo che stiamo come tutti aspettando ormai da giorni per entrare nel merito. Fatemi partire da una riflessione che però non riguarda il virus, è la questione sanitaria ed economica ed è una vicenda su cui non posso e non voglio stare zitto. Ovviamente è un momento di unità, la politica deve lavorare per risolvere problemi e non creare problemi. Evidentemente viene raccolto positivamente questo spirito costruttivo anche da parte della Lega, dei suoi sindaci, dei suoi governatori, dei suoi parlamentari, dei suoi ministri. È l'ultima cosa che mi interessa in questo periodo parlare di sondaggi. Ho letto su Repubblica che c'è un sondaggio, quindi se lo scrive Repubblica a figurarsi in cui la Lega cresce e arriva al 31%, non me ne può fregar di meno, né dei sondaggi, né delle ipotesi elettorali, né del consenso. Oggi si tratta di combattere una bestia dicendo la verità. Però l'unità per sconfiggere il virus sì, l'unità per dare soluzioni economiche e protezioni agli italiani sì, se qualcuno però pensa di usare l'emergenza sanitaria e l'emergenza coronavirus per far passare delle schifezze non avrà il consenso della Lega. Di cosa sto parlando? Dell'uscita dal carcere anticipatamente di migliaia e migliaia di detenuti. Questo è in ballo, questo l'ho detto chiaramente sia al Presidente del Consiglio Conte che al Ministro della Giustizia Bonafede, non ci sarà mai il consenso della Lega su indulti mascherati, amnistie mascherate, svuota carceri mascherate. Di cosa stiamo parlando? Perché è bene che lo sappiate. Secondo quello che ci risulta e secondo le dichiarazioni del Governo, nel decreto legato al virus è prevista anche l'uscita anticipata dalle carceri di tutti i detenuti a cui rimangono da scontare meno di 18 mesi di pena o che sono stati condannati a meno di 18 mesi di carcere. Il Partito Democratico dice che non si tratta di detenuti o di reati di grave allarme sociale. Ora io, codice penale alla mano, siamo andati a studiare e vorrei sapere se vi sembra normale, anche peraltro dopo le rivolte che hanno coinvolto 60 carceri italiane, io ripeto i numeri di settimana scorsa, 60 carceri con rivolte o proteste, con incendi, danneggiamenti per 35 milioni di euro di danni, 70 agenti feriti della Polizia Penitenziaria, 13 morti fra i detenuti, 72 evasi di cui ancora 3 latitanti nel Foggiano, fra cui un assassino. Quindi questa è la situazione da cui arriviamo, 60 carceri in rivolta, morti, feriti ed evasi. Risposta del governo, uscita anticipata per reati e detenuti di non grave allarme sociale. Ebbene, in questa fattispecie sotto i 18 mesi di pena rientrano ad esempio gli spacciatori, spacciatori di droga. Ci siamo capiti bene, articolo 73 del DPR 309 del 90, i rapinatori, articolo 628 del codice penale, i truffatori, articolo 740 del codice penale e i ladri, articolo 624 del codice penale. Secondo le stime di alcuni giuristi sarebbero almeno 6.000, e ripeto 6.000, i detenuti che potrebbero fruire di questa libertà anticipata. Ora, due ragionamenti. Uno dal punto di vista della certezza della pena. Non è un bel segnale. Parliamo sempre di certezza della pena, certezza della pena, rigore, intercettazioni telefoniche a chiunque si alzi la mattina e poi dopo una rivolta che è costata sangue, violenza, morti e feriti, come risposta lo stato invece del pugno di ferro, invece di chiudere le celle. Quello che chiedono tutti gli agenti di polizia penitenziare, chiedono mascherine, protezioni, pistola elettrica e la chiusura delle celle. Lo stoppa la cosiddetta vigilanza dinamica che significa che si aprono le porte delle celle la mattina e si chiudono la sera e durante il giorno ciascuno passeggia nel suo reparto e poi si rischia di raccogliere quello che si è raccolto. Invece no. La risposta dello Stato, invece del rispetto rigoroso della legge e semmai di pene più severe per quelli che hanno fatto casino, è un premio per 5 o 6.000 detenuti. Dal punto di vista sanitario che garanzie ci sono, che queste 3, 4, 5, 6.000 persone pronte a uscire non siano portatori di contagio, anche perché se dovessero stare ai domiciliari, polizia e carabinieri con tutto il lavoro che hanno da fare dovrebbero pure andare a controllare queste migliaia di persone che stanno a casa. Lo dico con tutta la volontà positiva, costruttiva, collaborativa che in queste settimane mi sembra che tutta la Lega stia dimostrando da Fontana a Zaia, ai sindaci, agli economisti, lo svuota carceri proprio no. Non ci sarà mai il voto della Lega o il consenso della Lega a un'operazione vigliacca per far uscire in anticipo di cella migliaia di delinquenti. E ho la cravatta non a caso che mi hanno donato i volontari della comunità incontro di Amelia, di Don Pierino Gelmini, che lotta contro la droga. Perché di fare uscire in anticipo spacciatori di droga da rimettere in strada, no, non c'è virus che tenga. E quindi come chiediamo di chiudere tutte le aziende e i negozi che non sono vitali e strategici, chiediamo anche di chiudere le celle, non di aprire le porte delle carceri, di chiudere le celle e aiutare i detenuti a star bene con le mascherine e i poliziotti a star bene con le mascherine. Quindi questo lo capiscano bene tutti coloro che sono al governo, anche i colleghi giornalisti. Ho letto che un parlamentare del Partito Democratico dice che chi la pensa così fomenta paure, soffia sul fuoco ed è irresponsabile. La certezza della pena, per quello che mi riguarda, è un valore imprescindibile. Quindi dalla certezza della pena la Lega non tornerà mai indietro. Veniamo al decreto, veniamo almeno al decreto, alle bozze di decreto. Vedo che molti di voi stanno scrivendo sugli affitti, sui mutui. Ripeto, certezze non ne abbiamo. Dalle bozze ci sono delle lacune che cercheremo di colmare con dei suggerimenti, degli emendamenti, delle proposte, delle soluzioni. Non è possibile pensare di far pagare gli affitti e i mutui a chi non sta lavorando e a chi non sta incassando. Le lacune maggiori sono a carico dei lavoratori autonomi. Per le partite IVA protezioni e tutele quasi zero. Pensiamo al bonus babysitter ai congedi familiari per chi ha i figli a casa retribuiti. Evidentemente i lavoratori autonomi da questo sono totalmente esclusi. Partite IVA, autonomi, artigiani, liberi professionisti. Di più, anche il cosiddetto bonus di 600 euro, che sta facendo arrabbiare tantissimi di voi e tantissimi italiani che dicono io con 600 euro non ci pago neanche la metà dell'affitto, delle spese, delle bollette e non mi rimane nulla per mangiare e fare la spesa. Da quei 600 euro per gli autonomi, peraltro, sono esclusi tutti i liberi professionisti che hanno delle casse professionali indipendenti dall'Inps. Quindi gli architetti, i biologi, i farmacisti, gli avvocati, i giornalisti, i liberi professionisti, gli ingegneri, via tutti. Questi 600 euro non li vedono. Nessun taglio delle tasse. Pare previsto al massimo la sospensione per un breve periodo di tempo e qua, se fosse così, non ci siamo. Alcune aziende che mi hanno chiamato anche oggi del settore agricolo, del settore delle calzature, del mobile, del tessile, chi non è coinvolto direttamente dalle chiusure imposte per legge e quindi tutti questi settori, che però in Italia sono fondamentali e danno lavoro a centinaia di migliaia di operai, il tessile, le calzature, gli elettrodomestici, il mobile, l'allevamento. Ebbene, chi fattura più di 2 milioni paga venerdì le scadenze fiscali, venerdì questo, cioè fra tre giorni. Il posticipo è di quattro giorni, dal 16 al 20 marzo se fatturi dai 2 milioni in su. E qua sono tantissime medie aziende italiane che evidentemente sono ferme da settimane se non da mesi e non possono pagare quello che non hanno in cassa, a meno di fallire. Per tutti gli altri, tutti gli altri italiani, quindi per tutti voi, i pagamenti sono sospesi, sarebbero, uso il condizionale perché ripeto il testo ancora ufficiale non c'è, sarebbero sospesi fino al 31 maggio. Il che vuol dire che poi a giugno tutto. Ma scusa, se ho chiuso il negozio per mesi, perché questa sarà la durata, ho chiuso lo studio professionale, ho chiuso la bottega, come partita IVA non sto lavorando, pensiamo agli agenti di commercio, pensiamo ai precari, pensiamo agli stagionali, pensiamo a chi lavora nel turismo, nella ristorazione, che ci metterà mesi a ripartire, gli sospendiamo le tasse per due mesi e poi a giugno si riparte come se nulla fosse successo? No, non è possibile, non è immaginabile. E quindi evidentemente anche su questo stiamo lavorando, quando quella maledetta bestia del virus sarà sconfitto, poi sarà l'occasione per affrontare finalmente il grande tema della riforma fiscale, della flat tax, che ci è stato impedito di affrontare negli scorsi anni con successo, un enorme, pesante, serio taglio delle tasse per tutti i lavoratori, famiglie e imprese sarà fondamentale per rimettere ossigeno, per rimettere benzina nella macchina Italia, altrimenti senza un drastico taglio di tasse e burocrazia non ci sono garanzie che tengano. Stiamo cercando di capire il discorso degli affitti, per chi deve pagare l'affitto e non ce la fa, perché stando alle bozze c'è solo uno sconto su una parte dell'affitto del mese di marzo come credito d'imposta che evidentemente non aiuta niente nessuno. C'è il discorso sui mutui, perché anche qua leggiamo che ad esempio un rischio che molti hanno segnalato, su cui stiamo tenendo gli occhi aperti, è che per le partite IVA e gli autonomi che hanno un mutuo perfino sulla prima casa o c'è una riduzione di fatturato del 33% oppure non si sospende nulla. E voi capite che però anche con un calo del 5, del 10, del 15, del 20, del 25% un'azienda salta, una partita IVA chiude, un negozio chiude, quindi evidentemente anche il tema mutui andrà affrontato. C'è il tema dell'agricoltura e io vi invito quando uscite a fare la spesa, sperando che non rompano le scatole a voi come hanno fatto a me, perché sono uscito a fare la spesa sotto casa qua a Roma con la compagna quando mai l'avessi fatto, adesso mando lei così almeno nessuno mi vede, io sto sigillato qua in cucina perché Matteo Salvini probabilmente non ha diritto ad andare a fare la spesa e quindi mando altri, chiudo questa parentesi con il sorriso, ci segnalano che alcune cotene della grande distribuzione, alcuni discount starebbero cominciando a minacciare di lasciare per terra l'ortofrutta italiana per andare a fare acquisti dove costano meno, ad esempio in Spagna. Eh no! A maggior ragione in questi giorni, amiche e amici, ve lo chiedo dal profondo del cuore, a nome di milioni di lavoratori, di agricoltori, di pescatori, di floricoltori, di allevatori in difficoltà, compriamo italiano, mangiamo italiano, beviamo italiano, lasciamo sugli scaffali tutto quello che italiano non è e a virus sconfitto e a emergenza sanitaria finita una maxi operazione di tutela, orgoglio e rilancio del made in Italy in Italia e nel mondo dovrà essere fatta assolutamente, quindi comprare italiano e viaggiare italiano quando si potrà tornare a viaggiare. C'è poi l'enorme problema del lavoro precario, dei precari, degli stagionali, dei contratti a tempo, dei dipendenti delle cooperative, chi lavora nelle mense, chi lavora per le pulizie, chi lavora nelle scuole, è chiaro che è tutto chiuso e quindi su questo tutele non ce ne sono. Pensiamo ai balneari che erano già ostaggio della direttiva europea Volkestein che li metteva a rischio, pensiamo agli autotrasportatori, ai taxisti, ai nolleggio con conducente, agli autisti, anche questi scoperti da garanzie e tutele e quindi vogliamo leggere quello che c'è perché fare un pezzettino alla volta è complicato, però noi continuiamo ragionevolmente e responsabilmente, l'appello del Presidente della Repubblica per quello che mi riguarda è saggio e sacrosanto a costruire, a suggerire, a migliorare, a emendare, a proporre, senza però farci umiliare. Se qualcuno in Italia o all'estero pensa di metterci sotto osservazione con una troica, mettendo il MES, il Fondo Salva Stati a decidere che cosa dobbiamo fare e che cosa possiamo fare, ha sbagliato a capire. Anche solo lasciar trapelare l'ipotesi che il Fondo Salva Stati, il MES, possa servire all'Italia e agli italiani è un segnale pessimo e sbagliato alle imprese, alle famiglie e alle borse. Vediamo il disastro delle borse di queste ore. Anzi, semmai si tratterebbe di chiedere indietro i soldi che noi italiani, che voi tutti, senza che nessuno ci avesse chiesto il permesso abbiamo dato al Fondo Salva Stati, 14 miliardi di euro versati direttamente in questo MES, più altri 44 per altre iniziative a livello europeo. Totale 58 miliardi di euro sborsati dagli italiani per salvare gli altri, per aiutare gli altri e spesso e volentieri le banche degli altri. Ci siamo capiti? 58 miliardi di euro. Possiamo chiederli indietro, educatamente, rispettosamente, ma è chiaro che coi 25 miliardi messi in campo dal governo ci sono milioni di italiani dimenticati, non garantiti e non tutelati. Questi sono soldi d'agenza, penso avremmo tutto il diritto di chiedere indietro per usarli per i nostri ospedali, per le nostre famiglie, per i nostri anziani, soprattutto anziani e disabili che vivono da reclusi e vanno avanti grazie al volontariato che fa vedere il grande cuore dell'Italia, coordinato anche dalle amministrazioni locali. Penso al Comune di Verona e ringrazio l'assessore al Commercio Zavarise che ha messo d'accordo la Croce Rossa, la Conf Commercio, la Conf Esercenti per organizzare il trasporto a casa, a domicilio di alimentari e di farmaci e tanti altri comuni italiani che si stanno organizzando così. Un pensiero particolare ai sindaci bergamaschi e bresciani che sono in frontiera. Un abbraccio al governatore Attilio Fontana che sta lottando come un leone, sta cercando di fare un miracolo italiano, ovvero costruire un ospedale in tempi rapidissimi, allestire 500 posti letto in fiera, in quella che era una fiera espositiva, creare 500 posti di letto per salvare vite. Un abbraccio anche a Luca Zaia che primo fra tutti insieme ad Attilio Fontana era partito chiedendo i controlli e adesso chiede al di là dei vincoli di bilancio, lui giustamente ha detto chi se ne frega del bilancio, la salute dei miei cittadini viene prima dei vincoli del bilancio, controlli sanitari a tappeto. Ringrazio i sindaci che erano nella zona rossa, anche lì purtroppo dimenticati perché nel decreto per i 10 comuni della zona rossa non è previsto nulla. Ho sentito oggi la governatrice della Calabria, anche loro stanno cercando di fare miracoli e stanno allestendo al momento 165 posti letto in terapia intensiva, domani ci sarà il Consiglio regionale in Calabria, domani partirà al lavoro finalmente anche la nuova giunta calabrese che per la prima volta nella storia avrà anche una rappresentanza della Lega perché 100 mila calabresi questo ci hanno chiesto di fare. Ho sentito il vice sindaco di un comune marchigiano, Cingoli, provincia di Macerata, il vice sindaco Salta Martini che ha segnalato la situazione di abbandono di una casa di riposo per anziani, di una RSA con 40 anziani, quasi tutti contagiati, senza un'assistenza sanitaria sufficiente anche perché lì la regione la scorsa estate ha dimezzato l'ospedale della città che pensate è rimasto in mano a tre medici, quindi ci sono tre medici che si devono dividere fra i reparti ospedalieri, le case e una residenza per anziani con 40 donne e uomini in difficoltà, questo è uno dei tanti piccoli casi che quotidianamente mi arrivano su Whatsapp e sul cellulare a cui cerchiamo di dare risposta, ovviamente c'è il problema soprattutto di lavoro, leggo anche molti di voi, saluto Manuel, saluto Giuseppe, saluto Alberico, saluto Silvana, a Modena non si trova una mascherina, anche questa è una follia, ci sono i governatori della Lega che stanno cercando in tutto il mondo mascherine, camici, occhiali, ventilatori e respiratori perché evidentemente non c'erano scorte a livello nazionale e quindi a livello locale si fa più veloce, più in fretta e spesso meglio quello che non si riesce a fare a livello centrale. Saluto Mauro, saluto Fabio, saluto Alessandra, come parlamentari e consiglieri regionali della Lega, ciascuno sta dando anche un contributo economico senza farne pubblicità, io ringrazio tutti i privati che stanno facendo donazioni, oggi ho visto anche Silvio Berlusconi con 10 milioni di Euro di donazione, chapeau, grazie a nome di chi verrà curato, grazie a questi 10 milioni, noi ovviamente non arriviamo a queste cifre ma ciascuno dei nostri eletti sta facendo la sua parte riservatamente o qualcuno dicendolo per carità di Dio, se arriverà entrosera il decreto cercheremo di essere precisi perché molti di voi ci stanno chiedendo quanto c'è per i lavoratori del turismo, non si sa quanto c'è per i lavoratori dello spettacolo, ancora non ci sono numeri certi, lo stop ai contributi per il lavoro domestico sono previsti solo fino al 31 maggio e poi chi vivrà vedrà, per la cassa integrazione che è stesa anche ai piccolini grazie a una proposta della Lega, questa è stata una proposta della Lega accolta, la cassa integrazione anche per i piccoli, per i piccolissimi, per le partite IVA, per gli artigiani che hanno un solo dipendente, questo almeno è stato accolto come suggerimento, però pare che per tutta la cassa integrazione ci sia una cifra di 1 miliardo e 300 milioni di Euro che ovviamente non arriverà a soddisfare neanche un decimo delle richieste che verranno presentate, quindi conto, se il decreto verrà finalmente depositato, di essere più preciso con voi questa sera. Penso di potervi già dare l'indirizzo mail, poi su questa pagina metteremo a breve anche i numeri di telefono per mandare le vostre domande, perché io ne sto leggendo tante, a parte il fatto che sto diventando miope, quindi vedo sempre meno, però Flavia, Andrea, Alessandro, Gaetano, in tanti state facendo domande, anche dall'estero state scrivendo, grazie, l'indirizzo mail per avere risposte è emergenza-legaonline.it Lo ripeto, emergenza-legaonline.it. Ovviamente arriveranno tante domande, non pensiate che siamo dei maghi e che possiamo rispondere tempo zero, ripeto anche perché il decreto fisicamente ancora non c'è, non è scritto con i commi, con gli articoli, con le date, con le cifre, però iniziamo a raccogliere le vostre domande sugli aiuti alle imprese, il sostegno alle famiglie, sullo stop ai versamenti di tributi e contributi, sulle cartelle esattoriali di Equitalia, emergenza-legaonline.it e vediamo di smistare per competenza tutte le vostre domande. Un altro punto che ci è stato segnalato dall'ordine dei commercialisti, che stiamo approfondendo, che se così fosse non sarebbe assolutamente un bel segnale, sembra che ci sia all'allungamento di due anni, da cinque a sette anni, la possibilità per lo Stato di fare accertamenti fiscali a carico delle imprese. Ora, se così fosse, in un momento di emergenza sanitaria, in un momento in cui in Lombardia stanotte mancavano i letti di terapia intensiva e la gente non riusciva ad avere i respiratori, in un momento di crisi economica per milioni di famiglie, con le aziende chiuse, con i negozi chiusi, con le scuole chiuse, con le fabbriche in gran parte chiuse, se lo Stato pensa di allungare di due anni i termini per gli accertamenti fiscali, penso che sia l'ultimo dei segnali che si possono e si devono dare. Adesso un po' di fiducia in cittadini che si stanno sacrificando, che stanno combattendo, dovrebbe essere data. Se le risposte certe sono l'uscita anticipata dal carcere di migliaia di delinquenti e l'allungamento dei tempi per gli accertamenti fiscali a carico delle famiglie e delle imprese, non partiamo da un presupposto di fiducia degno di un popolo come quello italiano. Scrive Maria, scrive Stefano, scrive Maurizia, mio marito è andato in pensione grazie a quota 100, meno male. Un bacio a te, sono contento per te e tuo marito, speriamo che nessuno metta in discussione l'età pensionabile e la stessa quota 100. saluto Federica, saluto Daniela, serve l'azzeramento dei debiti di Equitalia, saldo e stralcio totale. Hai perfettamente ragione. Penso che a virus confitto, a emergenza sanitaria superata, un abbattimento di tasse e burocrazia con una flat tax totale generale per famiglie e imprese e un saldo e stralcio globale di tutte le pendenze e tutti i debiti con Equitalia, pagando il possibile e tornando a lavorare e produrre, sarebbe operazione di saggezza e di trasparenza. Lo proponiamo e lo provremo, questo assolutamente. Luca dice non so se farà più morti il coronavirus o la crisi economica a cui andiamo incontro e vediamo di combattere sia l'emergenza sanitaria che l'emergenza economica. Angelo dice non votate questi decreti se non li cambiano, prima però li vogliamo leggere per provare a migliorarli, evidentemente. Fabiana dice che bisogna chiudere tutto per risolvere la situazione. Desiree, Stato e Agenzia delle Entrate sono penosi. Moira denuncia, ci stanno annientando, non ce la facciamo. Vladimiro chiede imposte e tasse azzerate per il 2020, è la nostra proposta. Un anno bianco fiscale in Italia e una zona rossa economica europea. Ieri anche la Presidente della Commissione europea, peraltro Ursula von der Leyen, ha ripieso quella che è stata la nostra prima proposta, non dico la mia, ma dico la nostra proposta di una zona rossa europea per la sanità e per l'economia, quindi di avere trattamenti sanitari uguali in tutta Europa e poi iniziative economiche uguali in tutta Europa per evitare che qualcuno faccia concorrenza o guerra sleale alle aziende, ai lavoratori italiani. Vediamo, meglio tardi che ma è certo che questa Europa si sta dimostrando inutile e in alcuni casi nemica. Però l'ha detto il Presidente Mattarella, se per fio il Presidente Mattarella ha suonato la sveglia all'Europa, evidentemente non può essere tacciato di sovranismo, di leghismo, di egoismo, di nazionalismo o di ismi vari ed eventuali. Detto questo vi lascio perché ho appuntamento telefonico con alcuni sindaci, alcuni governatori, alcuni operatori sanitari per seguire le vicende in tutte le regioni italiane. Ho sentito il governatore della Sardegna, Cristian Solinas, che sta lavorando all'emergenza sanitaria e chiudendo porti e aeroporti e ha fatto bene. Ho sentito la governatrice dell'Umbria, ho sentito alcuni imprenditori campani e napoletani, perché c'è la crisi del settore agricolo alle porte, il latte, la mozzarella di bufala. Quindi cerchiamo di essere sul pezzo con tutti i nostri limiti, suggerendo, migliorando, emendando, però nessuno pensi di usare l'emergenza sanitaria del virus per far digerire alla Lega e agli italiani provvedimenti inaccettabili come indulti, amnistie, svuota carceri o sconti di pena. Poi una riflessione, noi abbiamo chiesto da mesi chiedevamo la chiusura delle frontiere, la sospensione del trattato di Schengen, per mesi ci hanno detto che non si poteva, ebbene le frontiere le hanno chiuse Germania, Francia, Spagna, Austria, Slovenia, con controlli alle frontiere, l'Italia no. Noi non potevamo farlo e abbiamo aperto tutto a tutti, gli altri quando hanno voluto farlo l'hanno fatto in 24 ore. Evidentemente volere e potere, quelli che ci dicevano che non si poteva non ce l'hanno detta tutta giusta, non faremo la fine della Grecia, promesso, siamo un grande popolo, siamo un grande paese, insieme ci ritireremo sulle maniche e usciremo anche da questo disastro, però ci vuole serietà, tempestività e senza limiti ai soldi che servono. Vedo che mi state scrivendo dalla Basilicata, dalla Puglia, dal Lazio, da Milano. Un abbraccio in particolare, ripeto, a chi è in Trincea, Bergamo e Brescia. Soprattutto, non mollate, spero di sentirvi e di rivedervi entro sera, decreto alla mano, altrimenti vorrà dire che ci aggiorniamo a domani. Ripeto l'indirizzo mail per mandare delle domande, abbiate pazienza perché ci sono centinaia di richieste, quindi vedremo di non essere troppo lunghi e di dare risposte nei limiti del possibile, emergenza-legaonline.it. Se voi ci siete, io ci sono.